Guerra in Ucraina, la diocesi attiva la rete di aiuti alle popolazioni colpite, al via Una raccolta fondi appelli ad accogliere i profughi, da domani parte la raccolta dei medicinali nella sede della Croce Rossa di Fano Energia a costo delle materie prime, blocco dell'export, Bordoni e CNA avvertono che con la guerra in atto si rischia un effetto domino sulle imprese Il circuito Marconi di Fano diventa accessibile alle persone con disabilità, l'assessore Brunori annuncia anche i nuovi orari per la fruizione dei ciclisti Presentato il cartellone di eventi della cappella musicale del Duomo di Fano e il primo appuntamento domani, mercoledì, delle ceneri con il servizio corale durante la messa, preseduta dal Vescovo Trasanti Il rogo del pupo, ma con luce e fumogeni, ha chiuso la settimana grassa del Carnevale di Fano e in piazza anche il carro realizzato dagli studenti di Liceo Nolfi a Polloni Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Si è svolto questa mattina il tavolo di coordinamento per aiutare il popolo ucraino La diocesi ha attivato un conto corrente e sta raccogliendo le disponibilità degli alloggi per ospitare i rifugiati Nel servizio di apertura il punto con il direttore della Caritas Ettore Fusaro e il direttore dell'ufficio Migrantes, Don Alessandro Messina Attivare tutte le iniziative necessarie senza disperdere le azioni messe in campo E questo l'obiettivo della diocesi di Fano, Fossumrone e Callipergola Che vuole sostenere in modo concreto ed efficace le persone colpite dalla guerra in Ucraina Questa mattina si è tenuto un incontro di coordinamento a cui hanno partecipato i vicari, gli uffici pastorali, le associazioni eleicali e di volontariato presenti sul territorio A promuovere e coordinare le variazioni che verranno intraprese sarà la Caritas Direttore è stata costituita una cabina di regia, vi siete subito attivati, che cosa è emerso dal tavolo di coordinamento? Questa mattina insieme a tutti gli uffici della diocesi abbiamo sentito la necessità di fare squadra Di metterci insieme per affrontare quella che può essere comunque un'emergenza che arriverà anche sul nostro territorio E per riflettere su che cosa sta avvenendo in Ucraina e in Europa Rispetto a questo abbiamo concordato e ci siamo confrontati con gli altri uffici Su come attivare dei percorsi di aiuto, sostenibilità e sostegno alla popolazione ucraina E anche le eventuali necessità di accoglienza nel nostro territorio Quindi queste sono le priorità, accoglienza e raccolta fondi? Sì, in rete con la Caritas Nazionale, in rete con gli organismi della Chiesa Cattolica Lanciamo una campagna di raccolta fondi per aiutare le popolazioni ucraine Che sono attualmente sfollate al di fuori del paese, nei paesi limitrofi E poi anche una serie di iniziative di raccolta di disponibilità nel territorio Per le eventuali accoglienze e il sostegno alla comunità ucraina Le disponibilità ad accogliere i profughi possono essere comunicate tramite mail O chiamando questo numero di cellulare da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 Nel frattempo si attendono dal governo o tramite la prefettura Indicazioni sullo status giuridico burocratico dei profughi che arriveranno in Italia In modo da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e inclusione nella rete sociale locale A riguardo la diocesi è disponibile a orientare e fornire tutte le informazioni Don Alessandro aiuti materiali ma anche momenti di preghiera Sicuramente, la preghiera che vuol dire anche manifestare la propria solidarietà e la propria vicinanza Perché non dimentichiamo che le persone che stanno qui a Fano E le assistenti familiari per tanti anziani E vivono momenti drammatici perché hanno i loro familiari O proprio in prima linea a combattere O che fanno parte delle tante persone che stanno scappando dall'Ucraina Per cui noi già altre volte, non soltanto in occasione della guerra Abbiamo questo rapporto con il Don Vladimir Che oltretutto è il direttore della Caritas Ucraina per l'Italia E si ritrova a pregare insieme alle 14.30 tutti i sabati E da sabato 5 marzo in poi, come ha precisato Don Alessandro Messina La comunità si riunirà nella chiesa di San Giovanni Bosco In via 4 Novembre a Fano Messa a disposizione dagli orionini Il nostro invito è a pregare con loro E a far sentire la nostra vicinanza Io ho potuto vedere queste donne commosse Soltanto perché eri passati 5 minuti a dirgli Coraggio, vi siamo vicini, vi aiuteremo Quindi c'è anche questo bisogno di far sentire la nostra vicinanza E di non considerare queste persone soltanto come persone che vengono a lavorare da noi Con quell'espressione anche, secondo me, non bella a chiamarle badanti Perché dico assistenti familiari E loro sono contentissimi di vederci Sono contenti e esprimono questa loro gioia E certo che poi entrando in contatto con loro Andando a pregare con loro Ognuno poi di noi prendendo contatti con diretti Con la comunità ucraina nel territorio Potrà anche pensare di fare altri gesti di solidarietà Che vuole fare come, non so, portare cibo o altro Chiedendo a loro quello che di più preciso c'è bisogno L'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina Sta creando dei problemi, delle ripercussioni anche sull'economia In provincia di Pesero Urbino ne abbiamo parlato con il segretario della CNA Moreno Bordoni Inflazione e rallentamento della ripresa economica Sono gli spettri del caro energia, dell'aumento dei costi delle materie prime E della guerra in atto che mette a rischio la ripartenza degli artigiani E delle micro e piccole imprese Il conflitto Russia-Ucraina, secondo segretario della CNA Moreno Bordoni Rischia di compromettere in pochi giorni anni e anni di lavoro Sul fronte degli interscambi e delle esportazioni dell'attività manifatturiera Dell'azienda e del nostro territorio da e verso i due paesi Bordoni, si rischia un effetto domino sulle imprese? Si rischia davvero un effetto domino perché quei mercati Storicamente per la provincia di Pesero Urbino Ma per le marche in generale sono mercati strutturati e davvero importanti Consideriamo che nel 2020 la regione Marche Solo come export diretto verso la Russia e verso l'Ucraina Ha fatto oltre 400 milioni di euro E questo non è un dato che va visto soltanto per questa cifra Ma per tutto l'indotto evoluto che lavora nella nostra provincia Nella nostra regione e che quindi fa altrettanto fatturato Che rimane come ricchezza nel nostro territorio Quindi si rischia davvero un effetto domino Poi noi dalla parte italiana abbiamo anche l'altra parte della medaglia Ulteriore beffa perché non avendo energie nostre Dobbiamo comprare da quei paesi Considerate che 4-5 giorni fa il prezzo del petrolio Che era i massimi storici negli ultimi 10 anni Ha superato i 100 dollari al barile È arrivato a 105 e poi si è assestato su 102 Il gas naturale alla borsa di Amsterdam Più 51% oltre 100 euro al megawattora Tutti i costi che poi assolutamente verranno poi riversati Nelle bollette delle nostre famiglie e delle nostre imprese Che già erano difficoltà fino adesso Quali sono i settori che ne risentono di più? I settori manifatturieri Quelli che in questi mesi avevano invece trainato Quella ripresa importante che tutti auspicavamo Nel dopo pandemia Anche se non possiamo parlare di dopo pandemia Ma ormai la pandemia non è più un argomento È andato in mezzo alle pagine dei giornali Non certo più in copertina E rispetto a questo Il settore del legno arredamento La meccanica e anche la nautica Che è un settore che nel nostro territorio Negli ultimi anni è davvero ripreso a volare In uno scenario internazionale così incerto Che cosa si deve fare? E quali sono le prospettive? Innanzitutto bisogna scongiurare Che l'evento bellico continui per molto tempo Bisogna cercare di... La parte diplomatica deve avere la meglio Quindi smettere di fare la guerra Perché è importante Ovviamente stigmatizziamo la guerra In tutti i luoghi In ogni sua situazione Però le diplomazie devono lavorare bene In questo momento a mio avviso Hanno sottovalutato la situazione Hanno fatto degli errori importanti Poi sono convinto Che se l'evento bellico Terminerà velocemente I nostri imprenditori Quando saranno messi nelle condizioni Di fare bene il proprio lavoro Così come hanno dimostrato Durante la lunga crisi Negli ultimi dieci anni Durante la pandemia Poi quando hanno ripreso Hanno ripreso subito a volare Ci sono le condizioni Per una ripresa stabile Nei prossimi cinque anni Anche per l'occupazione Se riusciamo a trovare una normalità Che è la cosa fondamentale per l'imprenditore L'imprenditore ha bisogno di tutto Ma non ha bisogno dell'incertezza Ovviamente dopo una lunga crisi Dopo la pandemia E con l'evento bellico Proprio l'incertezza È quello che È l'elemento che li fa navigare a vista Noi abbiamo bisogno di tutto Tranne che di questo Da domani Nella sede della Croce Rossa Italiana Di Fano In via Gozzi 10B È attiva una raccolta Dei medicinali A favore del popolo ucraino Sempre domani Si terrà in prefettura Un'apposita riunione Sulle ulteriori azioni Da intraprendere L'Arcidiocesi di Urbino Invece ha organizzato Una fiaccolata per la pace Che vedrà uniti i ragazzi Della pastorale giovanile diocesana E quelli della FUCI La federazione universitaria cattolica italiana L'iniziativa si svolgerà Venerdì 4 marzo Alle ore 20 e 30 La partenza è prevista Nel piazzale di Borgo Mercatale Per poi continuare fino A Piazza della Repubblica Dove verranno accese le fiaccole Dopodiché si proseguirà Verso la cattedrale Per una preghiera personale La Regione Marche Ha attivato uno sportello Per il microcredito imprenditoriale È rivolto a coloro Che vogliono avviare O potenziare Un'attività di impresa O di lavoro autonomo E trovano difficoltà di accesso Al tradizionale credito bancario A disposizione quasi 8 milioni di euro A tasso agevolato Il microcredito è di due tipi Il microcredito sociale Che ha uno scopo Che in questo momento Non riguarda la comunicazione di oggi Invece il microcredito imprenditoriale È quella forma di sostegno al credito Che è rivolta ad imprese giovani Ad imprese piccole Ad imprese che inevitabilmente Hanno la necessità di ricorrere A mutui o a rimborsi Che abbiano una certa flessibilità Ecco che noi abbiamo messo in campo Una cifra di poco inferiore Ai 4 milioni 3 milioni e 8 A cui si aggiungerà un'analoga somma Quindi un montante finanziario Che supera i 7 milioni Si avvicina agli 8 Che sarà devoluto alla gestione Di due soggetti Che hanno composto unati Che risultano iscritti nell'albo Di coloro i quali possono Per dettato ministeriale Gestire questo tipo di finanziamento E questi gestori Metteranno per l'appunto Delle risorse ulteriori Proprio per consentire Ad almeno 400 piccole imprese Con meno di 5 anni Di poter avere credito In forma più flessibile E meno costosa Parte da oggi La cosa del microcredito Che vale la pena sottolineare È che non si tratta solo Di prestito di denaro Ma è anche una forma di sostegno Assistenza tecnica E accompagnamento Al beneficiario di questa misura I maggiori dettagli Con l'elenco dei requisiti richiesti Li troverete sul nostro sito OcchioAllanotizia.it Misure tempestive e ristori Per l'impiantistica sportiva Per far fronte All'esigenza di un settore Fortemente colpito Dal rincaro dei costi Delle energie E dalla crisi pandemica È la richiesta avanzata Dall'assessore Giorgia Latini Che ha partecipato Alla commissione sport Della conferenza Stato-Regioni Ho ribadito la necessità Di maggiori ristori Soprattutto per gli impianti sportivi Ha riferito l'assessore La proposta del governo È insufficiente A far fronte Alle difficoltà Dei gestori Alle marche Servono almeno 6 milioni di euro Di cui 3 Per gli impianti Natatori Risorse Ha proseguito Latini Che consentirebbero A queste attività Di non soccombere Di fronte al carbollette Ulteriore ostacolo Che si aggiunge All'emergenza sanitaria Torriamo a Fano Perché da oggi L'accesso al circuito Marconi È fruibile anche Dalle persone con disabilità L'assessore Barbara Brunori Ricorda L'ordinanza Dedicata ai ciclisti Che in determinati orari Avranno la pista Riservata Con alcune eccezioni Importanti azioni migliorative Riguardano l'accesso Al circuito Marconi L'assessore allo sport Del comune di Fano Barbara Brunori Ha illustrato Le nuove modalità Di fruizione Della pista Collocata nel cuore cittadino Partiamo proprio Dai ciclisti Anche perché Questo circuito È a loro dedicato Ospitando poi Anche tutta la parte Della città A partire da giovedì 3 marzo Come da ordinanza Del 2020 Il martedì E il giovedì L'orario sarà interdetto Dalle ore 17.30 Alle ore 19.30 Mentre il sabato Dalle ore 16.30 Alle 18.30 Questo perché Perché chiaramente Dovendosi allenare La società ciclistica Alma Juventus Proprio per favorire La sicurezza di tutti Ha bisogno necessariamente Di poter girare in sicurezza E quindi di non mettere in pericolo Né la loro incolumità Ma neanche quella Di chi eventualmente Lo frequenta L'accesso sarà comunque Garantito ad atleti Arceri Ai fruitori Degli impianti di baseball Inoltre Sempre con l'ottica Di migliorare La sicurezza Di chi lo frequenta È stata potenziata L'illuminazione pubblica Con un nuovo punto luce Nel parcheggio del circuito Un'altra importante novità Di questo circuito ciclistico È proprio quella Che da A partire da oggi Ci sarà accessibilità Per le persone con disabilità Attraverso questo cancello Quindi abbiamo dotato Il gestore del circolo tennis Dalle 8 della mattina Alle 20 della sera Di più chiavi Che saranno a disposizione Di tutte le persone Che naturalmente Vorrebbero accedere Cosa che fino ad oggi Non era affatto possibile Per cui ringrazio anche Il centro documentazione Il CDH Che naturalmente Sta già predisponendo Tutte le associazioni E anche le famiglie Di questa informazione E quindi ci sentiamo contenti Oltre questo Un'altra miglioria Che partirà da questa settimana È proprio la sostituzione Di tutta la recinzione Del circuito del baseball Che per favorire A campionati nazionali Naturalmente ha bisogno Di un perimetro Un po' più ampio E in sicurezza Alla Mediateca Montanari Bambini e i consiglieri Dei bambini Del comune di Fano Si sono trovati Per immaginare Il porto del futuro Hanno ideato Dei progetti E dei modellini Sono emerse idee Significative E all'avanguardia C'è chi vorrebbe Un porto sostenibile Più accogliente Più colorato E tecnologico Con tante attività Per i bambini Dove si può imparare A navigare E pescare Dove c'è un museo E una collaborazione migliore Con le scuole di Fano I modellini Serviranno come spunto Per concettualizzare Il tema di alcuni murales Che verranno realizzati Dagli street artist E che andranno Ad abbellire I capannoni Di Viale Adriatico Per sabato 5 marzo Porto Futuro Ha organizzato Un incontro All'associazione Il Ridosso I cui visitatori Potranno ammirare Le foto storiche Del porto Leggere i documenti Guardare i modellini Delle vecchie barche E ascoltare le storie Del porto e della marineria Proprio dalla bocca Dei marinai Si chiama I suoni delle pietre Ed è il titolo Della nuova stagione Della cappella musicale Del Duomo di Fano 27 appuntamenti Da domani Al prossimo gennaio Tra concerti Vespri d'organo E servizi liturgici L'attività Aveva subito Di rallentamenti A causa della pandemia Ma ora Riprende a pieno ritmo La cappella musicale Del Duomo di Fano Ha presentato Il ricco cartellone Di eventi Molti dei quali Riferite ai servizi corali Prestati Durante le liturgie In cattedrale Numerosi Anche i concerti In concomitanza A quelle festività Religiose Il coro Diretto dal maestro Stefano Baldelli È composto Da tre formazioni Divise Per fasce di età Dagli adulti Ai ragazzi Della scuola superiore Fino al gruppo Dei pueri cantores Che comprende I bambini Delle elementari E i giovani Che frequentano Le scuole medie Le tre formazioni Cantano spesso insieme O separatamente A seconda Delle occasioni Tutti i concerti Inoltre saranno Ad ingresso gratuito E contingentato Secondo le normative Anticovid Quest'anno Riproviamo a ripartire A pieno regime E con questo calendario Che si apre appunto Domani Mercoledì 2 marzo Con il primo servizio corale In occasione Del mercoledì Delle ceneri Che apre La quaresima E le celebrazioni Che ci portano Alla Pasqua Ci sono Alcuni appuntamenti Concertistici Che sono stati inseriti Durante tutto l'arco Dell'anno solare Il primo E il sabato 9 aprile Il concerto Che apre La settimana santa Prima della domenica Delle palme Dove Il coro eseguirà Alcune musiche Polifoniche Che introducono Al mistero Della celebrazione Della santa pasqua Altri appuntamenti Sono sempre In occasione Delle principali Festività liturgica Come il Natale Ovviamente Con il tradizionale Concerto di Natale Abbiamo previsto Quest'anno Come novità Quattro concerti D'organo Che prendono il nome Di vesperi D'organo E anche questi Sono collocati In corrispondenze Di alcune domeniche Domeniche particolari Uno in quaresima Nella quarta domenica Uno il giorno Di ferragosto Che è la festa Patronale Della cattedrale Uno in occasione Della festa Di tutti i santi E l'ultimo In occasione Della terza domenica Di avvento E sono stati chiamati Alcuni organisti Della città di Fano Proprio per insaldare Questo rapporto Tra la cattedrale L'organo restaurato E gli artisti Musicisti fanesi In questa quarta Stagione musicale Intitolata I suoni delle pietre Ricopre particolare Rilevanza Il concerto monografico Dedicato a Giuseppe Ripini Maestro di cappella Un compositore Di origine pesarese Di fine settecento Tenuto in gran conto All'epoca Ma dimenticato Nei secoli successivi Le sue partiture Sono conservate Nell'archivio storico Della diocesi di Fano E sono oggetto Di nuovi studi Per una sua riscoperta E presentazione al pubblico Con un evento Che si terrà Il 15 ottobre In cattedrale Con coro Solisti e orchestra Noi proporremo In anteprima Diciamo Moderna Queste sue musiche Con iniziative Che proseguiranno Fino al prossimo Natale Dove è possibile Consultarlo Il calendario Dunque pubblicheremo Questo calendario Sulla pagina Facebook Della cappella musicale Quindi lì si potranno Vedere tutti gli appuntamenti Ma poi di volta in volta Verranno pubblicati Aggiornamenti specifici Per ogni evento Quindi seguendo la pagina Facebook Si può rimanere Costantemente Aggiornati Il rogo del pupo A Chiusma In modo simbolico La settimana grassa Del carnevale di Fanno La manifestazione Nella sua versione Invernale Ridotta Oggi ha vissuto L'ultimo atto Con la sfilata Del carro Fanno La divina A cura Del liceo Nolfi Appolloni Il corteo Partito da piazza Costanzi E poi è arrivato In piazza 20 Settembre Dove si è potuta Apprezzare La mostra di foto E bozzetti Della mascherata In preparazione Allestita dai ragazzi Del liceo A seguire È andata in scena La riconsegna Delle chiavi Della città Dalla sindaco Del carnevale Marco Guidi Al sindaco di Fanno Massimo Seri Prima della cerimonia Di chiusura Con il rogo del pupo Anticipato Da una piccola Introduzione Da parte Dell'attore Enrico Spelta Che però È stata solo Virtuale Con luci E fumogeni Perché il vento È impedito Che si potesse Effettuare Con le consuete Fiamme Ad accompagnare Il tutto Le note Della storica Musica arabica Tra poco Trasmetteremo Uno speciale Dedicato Al nuovo centro medico Inaugurato Pochi giorni fa A Fosso 6 ore Grazie per aver seguito Il nostro telegiornale Occhio alla notizia Che torna come sempre Domani sera Alle 20 e 30 Buona serata a tutti voi Inaugurato